bene buonasera a tutti ecco buonasera e bentrovati a chi ci segue già da un po' in questo nostro ciclo di dialoghi eh dal titolo i quaresimali del Polo Lionello Bonfanti ma anche un benvenuto che voglio rinnovare stasera eh dal Polo Lionello Bonfanti a chi magari non non ci ha seguito finora e quindi eh insomma ci raggiunge in itinere ecco giusto un benvenuto appunto da questo centro eh imprenditoriale anche polifunzionale eh in provincia di Firenze ecco questo eh luogo fisico e valoriale no come lo 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 citiamo spesso e che insomma è anche unico nel suo genere perché comunque si caratterizza dalla da una vocazione da una specifica missione di vivere e promuovere un nuovo paradigma economico o perlomeno diverso un po' dal dal mainstream ecco come lo fa tutto ciò lo fa in due dimensioni ovviamente sul piano della teoria è molto ampio insomma il patrimonio culturale e tutto ciò che è formazione multidisciplinare che che vuole erogare questo centro anche queste serate ne sono un esempio perché comunque è un trasmettere è un dialogare riflettere su temi di di fondamentale importanza e anche di estrema attualità inoltre abbiamo appena inaugurato con i nostri partner di di IPEC questa associazione di imprenditori italiani per un per un'economia di comunione un nuovo ciclo formativo che punta proprio a trasmettere questa cultura aziendale organizzativa eh un po' rivoluzionaria ma anche dando degli strumenti molto utili a livello operativo appunto ai professionisti di oggi no che si trovano in questo tempo sospeso e anche molto complicato questa era la parte teorica ma il polo è anche molto attivo nella prassi e quello lo fa appunto sia affittando e occupando i propri spazi eh attraverso appunto la presenza di soggetti aziende associazioni libri professionisti che in un certo modo aderiscono al progetto eh di di economia di comunione che appunto questo progetto internazionale presente ormai eh a livello appunto di di mondo da più di trent'anni ma anche ad altri soggetti che pur non aderendo nello specifico comunque ne condividono i valori e tutto appunto questo patrimonio culturale che si diceva poco anzi e lo fa anche a diciamo attraverso una gestione della propria azienda in modo trasparente e più responsabile possibile ecco ricordiamo anche che poi durante il mese di marzo si si ricorda un po' la si celebra un po' questo movimento delle B corporation a cui appartiene appunto eh la edXpa che gestisce il polo e non è tanto no una celebrazione per per festeggiare diciamo o per vantarsi ma è appunto questo processo costante di miglioramento che ci sprona nel quotidiano a poter eh valutare rendi contare l'impatto e appunto aumentare eh l'efficacia a livello di comunità di di dipendenti fornitori ambiente tutto ciò che che riguarda appunto l'impegno anche civico di un'azienda. Ecco questa sera in particolare eh metteremo un po' il focus insomma eh della nostra serata su visioni proposte per una ripartenza. Proposte che insomma possano esplorare eh possibili vie di uscita virtuose no? Ma anche molto concrete che non si basano su un' attesa passiva e magari anche un po' frustrata ma ci spinge verso una proazione appunto che ci accompagni verso questa lunga attesa eh verso una nuova primavera. Ecco lo faremo introdotti da da Beatrice Cerrino che è docente di economia e diritto in istituti secondari collaboratrice della scuola di economia civile che tra l'altro ha luogo qua a sede proprio operativa e fisica qui al polo e si occupa in particolare dell'ambito di formazione al personale scolastico all'interno della secca e poi ha recentemente discusso anche una tesi di dottorato proprio sul tema di di rinnovare l'insegnamento dell'economia attraverso appunto canoni diversi no? Genovesi è stata un po' la guida spirituale ma insomma non soltanto lui e poi ti lasceremo la parola così approfondisci e lo faremo soprattutto guidati dalle riflessioni del professor Leonardo Becchetti grande economista italiano lascio poi tutti gli altri titoli perché non ci sarebbe tempo. Ecco giusto per concludere eh entrando proprio nel tema del di questo appuntamento io cito alcune sue parole professore lei dice per ripartire serve un nuovo modello sostenibile e resiliente è come se questa pandemia ci stesse suggerendo di costruire un modello di sviluppo diverso dove il benessere sia valutato non solo in termini di crescita economica ma appunto di sostenibilità ambientale di salute di ricchezza di tempo e di ricerca di senso ecco io direi che eh lascio qui la parola per addentrarci appunto in questa tematica molto importante e molto attuale con i con noi con gli esperti di settore a voi la parola grazie. Grazie buonasera a tutti grazie Francesca per questa ricca introduzione io vorrei soltanto dedicare qualche minuto ad un piccolo riassunto delle puntate precedenti nel senso che mi sembra importante richiamare ehm perché abbiamo voluto questo ciclo d'incontri e perché li abbiamo ehm chiamati quaresimati ricordiamo il senso che avevano per i francescani dell'osservanza erano momenti di riflessione di invito al cambiamento di invito al pentimento ehm per il fatti da da questi predicatori che chiedevano al popolo di convertirsi e si concludevano con un atto molto concreto molto ehm diciamo economico perché si eh concludevano con la nascita di un monte di pietà e quindi di una diciamo banca per i poveri antelitteram le prime forme di prestito a alle persone meno ambienti e quindi mi sembra un invito che possiamo raccogliere stiamo avvicinandoci alla conclusione di questi quaresimali ma di non perdere neanche noi il di senso di riflettere quale potrebbe essere il monte di pietà che fonderemo alla fine di questo percorso di di riflessione la per due sere abbiamo eh approfondito con Luigi Nobruni le caratteristiche del dell'imprenditore andando a pescare nel passato eh testimonianze ed esempi virtuosi e ad imparare dal da loro l'amore per la nostra gente con Luca Fiorani abbiamo constatato lo stato precario di salute del nostro pianeta abbiamo rimesso a fuoco quanto è vero che tutto è interconnesso un'affermazione eh della laudato sì che avevamo compreso nella sua importanza ma che la pandemia sicuramente ha appesantito questa pandemia che non accenna quanto pare ad arretrare tutte queste sollecitazioni aprono bene al dialogo che possiamo avere con l'ospite di stasera Leonardo Becchetti professore all'università di Tor Vergata non sto ad elencare i titoli delle sue pubblicazioni e anche delle sigle con le quali è attivo in questo ruolo di veramente alfiere della cittadinanza attiva del voto col portafoglio quindi direi non gli rubo altro tempo eh gli do la parola per questa serata che ha avuto un'evoluzione anche nel titolo promesse di futuro nell'anno orribile grazie la parola Leonardo grazie grazie Beatrice grazie Francesca mi fa molto piacere stare qui con voi e voglio un attimo usare il mio tempo facendoci partendo da alcune foto del presente di oggi e i fatti per poi arrivare un po' a questa visione a questi suggerimenti queste promesse di futuro anche in quest'anno terribile ricordo per esempio la figura di Teilhard de Chardin che era un gesuita che viveva ai tempi della prima guerra mondiale nelle trincee della prima guerra mondiale ma aveva avuto la lungimiranza di guardare lontano e di vedere per esempio la nascita dell'anosfera e di internet bene vediamo un po' queste foto di sapete che è uscito il rapporto sul benessere e sostenibile in Italia e quindi questo ci dà delle ci dice delle cose molto importanti del paese vedete le mie slide sì sì perfetto perfetto allora sappiamo che purtroppo la povertà assoluta è aumentata come come ci potevamo aspettare in quest'anno tutti i settori che hanno chiuso l'economia che ha rallentato dal sette sette al nove quattro per cento in un anno solo abbiamo una quantità di imprese che non sappiamo se riapriranno le chiamano addirittura imprese zombie si parla dell'otto per cento del paese quelle nere le zombie light che sono quelle grigie imprese che quando verranno meno i ristori la cassa integrazione la sospensione delle cartelle fiscali faranno fatica a riaprire e abbiamo paguato un peso enorme dal punto di vista della salute sempre il BES ci dice che in Italia l'aspettativa media di vita si è ridotta di un anno con la pandemia ma questo nasconde degli effetti diversissimi a seconda delle zone del paese pensate che in Lombardia abbiamo perso due anni e mezzo di vita e in Basilicata praticamente nulla dal mese di aprile io insistevo con una serie di studi con i miei colleghi anche di altri paesi che questa epidemia non esisteva un'unica epidemia che andava affrontata a livello diverso regione per regione e che in particolare la qualità dell'aria avrebbe avuto un effetto molto importante nel rafforzare purtroppo gli effetti negativi delle malattie polmonari questa è la foto della situazione della qualità dell'aria in Europa e come vedete purtroppo nella pianura padana è una delle zone più a rischio per anche la sua situazione orografica con un maggior numero di giorni di sforamento dei limiti delle polveri sottili questa è la concentrazione dell'inquinamento delle polveri a destra vedete l'eccesso di mortalità quindi un problema molto serio anche qui c'è una risposta facile tra virgolette perché noi sappiamo che più della metà dell'inquinamento eh di da diciamo dell'aria deriva dal riscaldamento eh quasi il cinquantasette per cento e quindi eh una delle proposte che ho fatto come consigliere del l'ex ministro dell'ambiente è quella di usare il centodieci per cento per la sostituzione di tutte le caldaie scaldamento che non producano polveri come per esempio quelli delle pompe di calore ancora è stato l'anno del lavoro a distanza l'anno della dello smart work sempre il BES ci fa capire però che lo smart work non è stato uguale per tutti è stato migliore per chi aveva una connessione migliore è stato migliore per chi aveva una una casa più grande è stato eh la possibilità per alcuni settori produttivi dove vedete le linee azzurre più alte sono i settori che hanno potuto fare più smart work chi lavora nell'istruzione nel credito nell'informazione e comunicazione gli impiegati e lavoratori qualificati non certo gli operai lavoratori agricoli e chi lavora nel settore delle costruzioni quindi è stato un anno molto difficile però la cosa strana e qui passiamo subito al tema della felicità è che c'è un pazzo lì quest'anno è aumentata la partecipazione civica dal cinquantasette nove al sessantatue per cento più partecipazione civica e politica e soprattutto questa è il diciamo il mistero dei misteri è aumentata la soddisfazione per la vita dal quarantatré al quarantaquattro per cento ci potevamo aspettare un tracollo degli italiani che dicevano di essere molto soddisfatti della propria vita quelli che danno una risposta da otto e dieci tra otto e dieci per intendersi su base zero dieci come accaduto d'altronde nell'anno della crisi dello spread nel duemiladodici duemilatredici quando ci fu la crisi dello spread il governo monti 10 punti percentuali passiamo dal quarantacinque al trentacinque e invece non è successo niente di tutto questo questo è molto interessante e diciamo noi economisti civili lo capiamo perché l'uomo non è solo felice se aumenta aumentano i suoi guadagni l'uomo è un cercatore di senso innanzitutto e quindi diciamo ha bisogno di dare significati alla propria vita e paradossalmente nell'anno della pandemia i significati sono arrivati discorso del del senso i significati sono arrivati ci siamo sentiti avevamo una sfida comune tutti quanti da affrontare paradossalmente la soddisfazione di vita la ricchezza di senso di vita non è scansare i problemi ma è farsi di farlo in una situazione dove il problema non ci casca addosso come quello della pandemia ma farsi carico di problemi e risolvere problemi i giorni è la è la sfida ambientale l'abbiamo l'abbiamo generazione di anidride carbonica nell'atmo questo produce l'effetto serra e quindi riscaldamento globale stiamo facendo di tutto per rispetto di temperatura e sappiamo che se vogliamo farlo dovremo entro il duemilacinquanta a zerare le nostre emissioni di anidride carbonica portare a zero quasi cinquantaquattro miliardi di tonnellate di co2 che produciamo ogni anno questa è una curva molto importante si chiama la curva marginale di abbattimento dell'anidride carbonica ci fa capire praticamente che all'inizio verticale il costo di abbattere l'anidride carbonica ma quando superiamo la metà del lavoro da fare i costi diventano proibitivi per fortuna però ogni anno la tecnologia ci porta delle novità delle rinnovabili e quindi questa curva si sposta verso destra e quindi possiamo sperare di farcela un po come la sfida del vaccino l'anno scorso non avevamo la risposta si sarà per il riscaldamento climatico l'altro vero grande problema spesso il papa è l'epidemia di povertà di senso questa epidemia invisibile che ha portato negli stati uniti ad un aumento sorprendente della mortalità quanta per suicidi o per dose da opioidi quando una società diventa povera di senso viene meno la ragione del vivere quindi ecco ecco la nostra battaglia combattere il riscaldamento climatico combattere la povertà con la vision io ho una grande battaglia ringrazio è nata l'economia civile che è la sede dell'economia di comunione ecco economia civile economia di francesco economia di comunione nuova economia dobbiamo fare tutti una grande missione comune io la sintetizzo in un tweet l'ho raccontata qui scondono dietro una bandierina tifano per l'uomo della provvidenza che dovrebbe risolvergli i uomini della provvidenza uno dopo l'altro perché l'uomo della provvidenza di queste cose cittadinanza attiva imprese responsore al profitto istituzioni elevatrici dell'energia e della società civile l'economia civile il motto di di kennedy non chiederti cosa puoi fare cosa il tuo paese può fare per te o l'uomo della provvidenza sulla scia della ricerca della felicità prendiamo a modello genovesi john stuart attività cioè la felicità vuoi cosa che può rendere felici le vite di altre persone tanto più noi lo facciamo tanto più si è accompagnare lasciare andare in questi anni e adesso passo appunto a quelle pillole di futuro che stiamo cercando di costruire tutti insieme che secondo me sono grandi speranze innanzitutto vive questo lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto con next e organizzazioni del paese dalle gambie che lavorano per appunto creare queste una prima risposta cominciare a misurare il benessere andare anche più avanti del best siamo non siamo ma passiamo alla giornata di vita personale orientata a un fine di generazioni quindi la longevità attiva la riduzione dei net poi la forza del voto del voto col portafoglio che ci ha spinto una dichiarazione brutale di un che dice c'è un solo padrone che è il cliente semplicemente spendendo i propri soldi da qualche altra parte e quindi col voto col portafoglio è interesse Bill Gates nel suo ultimo libro sul clima dice che la cosa migliore che possiamo fare come cittadini per il clima è comprare in modo sostenibile perché in questo modo diamo un segnale alle aziende che c'è spazio e le aziende cominceranno ad innovare in quella direzione eh alcuni la crescita della finanza etica della finanza sostenibile l'abbiamo fatta nascere venti anni fa con etica sgr il primo fondo etico italiano oggi il settantasette per cento degli imprenditori dei fondi di investimento dicono che voteranno col portafoglio nei prossimi due anni e il più grande fondo di investimento del mondo black rock dice che le aziende senza un fine senza un purpose non hanno futuro e quindi lui voterà col portafoglio per i titoli sociale questa è un'altra bellissima foto con il motto del voto col porto etici che si chiama interface center for corporate responsibility fare leva sul potere degli investitori per catalizzare il mercati di rallentare un pochettino perché la tua connessione va un pochino attratti e se vai troppo veloce si perdono alcune parole grazie tutto il tempo che vuoi no 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 è il lavoro che stiamo facendo con next siamo partiti dall'idea di creare un percorso eh eh condiviso con le aziende e con gli stakeholder per il cammino della sostenibilità più di 600 aziende si sono messe in cammino eh indicatori viventi noi li chiamiamo perché appunto si evolvono attraverso questo dialogo tra imprese portatori di interesse e esperti e eh questo percorso che continua che oggi arriva a valutare anche i comuni le scuole gli enti di terzo settore ha portato alla nascita di giosto alla fine abbiamo deciso di diventare partner delle migliori storie del nostro paese eh con un sito online di consumo sostenibile dove siamo orgogliosi di vendere per esempio tutti i prodotti della legalità italiana penso a Libera Terra penso a Goel Bio i prodotti del biologico eh i prodotti dell'economia carceraria quindi made in carcere esprigioniamo sapori e tantissimi grandi innovatori del nostro paese ieri citavi un bel cashmob che abbiamo fatto con le gambiente con un prodotto un un olio eh detergente un detergente che si chiama Bergoglio hanno chiesto il permesso al Papa per usare il nome e il Papa gliel'ha dato di una grande innovatrice che usa gli oli esausti quindi economia circolare e favorisce il reinserimento lavoro ecco quindi con giosto eh siamo diventati partner di queste aziende è nata anche un'altra realtà molto bella che stiamo accompagnando anche dentro giosto che si chiama la marca del consumatore i consumatori non votano solo col portafoglio ma iniziano a creare i loro prodotti creano i loro prodotti eh facendo è nata in Francia questa realtà dove ci sono ormai quasi il dieci per cento del latte venduto in questo modo i consumatori eh creano un loro questionario decidono di pagare di più i produttori di rispettare alcune regole e inventano il loro prodotto che mettono poi sul mercato e da questa storia anche ha un valore didattico impressionante perché tante volte si dice che votare col portafoglio costa bene questa passata di pomodoro della marca del consumatore il trenta per cento di più i produttori un prezzo equo eh incidendo sul sul prezzo finale del prodotto solo per trenta centesimi abbiamo calcolato calcolando quelli che sono i consumi annuali di passata di pomodoro che con con un euro virgola due all'anno è possibile pagare in maniera dignitosa il lavoro e andare oltre il caporalato ma ci dobbiamo mettere in modo come diceva prima Beatrice i guaresimali sono anche momenti e la conversione è fatta di gesti è fatta di eh volontà di scendere in campo fare queste cose generative che poi ci rendono anche felici abbiamo creato il distretto delle mascherine sostenibili un'altra bellissima idea che eh ha messo assieme una serie di produttori eh in tutto il paese eh producendo delle mascherine che sono lavabili dieci volte che quindi hanno un impatto ambientale molto minore delle mascherine usa e getta e favorendo il reinserimento lavoro quindi la capacità di fare rete e di costruire dei distretti che favoriscono le nostre piccole e medie imprese la storia è raccontata su vita eh e si chiama social mask eh ovviamente non pensiamo che solo l'azione dal basso ci possa salvare quindi stiamo lavorando ovviamente con le amministrazioni con i governi e l'ultimo anno eh di lavoro con il ministero dell'ambiente per me è stato molto molto prezioso ho capito che eh abbiamo cercato di creare insieme quella che sono le linee del Green New Deal italiano eh che passa attraverso questa idea di stato elevatore delle energie della società civile e quindi in un certo senso favorire il cambiamento dei comportamenti di città di milioni di cittadini e di imprese penso quindi al tema della rendicontazione non finanziaria al tema dei bonus eh per i manager che non possono essere premiati se aumentano il profitto aumentando gli ma devono essere premiati se rispettano gli indicatori sociali e ambientali eh al tema delle comunità energetiche quindi cittadini eh condomini reti di imprese che possono eh penso al Polo Lionello per esempio che possono diventare prosumer produttori di energia rinnovabile e venditori di questa energia dell'eccedenza di energia che non consumano in rete al tema degli appalti lo Stato vota col portafoglio perché il diciotto per cento pubblici e quindi tutto il tema dei dei criteri minimi ambientali e sociali gli appalti green eh quindi un grande tema su cui insistere ancora una cosa molto bella che eh ho avuto la fortuna di fare assieme al Ministero delle delle finanze è stata la nascita dei primi eh del primo BTP verde italiano qui vedete il prospetto con cui ci siamo impegnati rispetto agli investitori internazionali eh raccogliendo nove miliardi sui mercati a fronte di una domanda di novanta miliardi eh e impegnandoci a usare questi soldi solo per investimenti ad alto livello di sostenibilità ambientale questi sono i sei impegni che abbiamo preso nel settore delle rinnovabili nel settore dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti nel settore della prevenzione dell'inquinamento della protezione della biodiversità e della ricerca per la sostenibilità ambientale. Un altro e vado un pochino verso la la conclusione a questo punto per sapere anche le vostre domande un altro percorso importante che abbiamo fatto è quello con una rete ancora di organizzazioni quindi con con vita col forum delle disuguaglianze con la scuola di economia civile con le ACLI per ragionare su un cambiamento una riforma del welfare e e qui abbiamo concepito qualcosa che eh attualizza e rende concreta quella che è il pensiero della scuola di economia civile cioè l'idea è che eh la persona lo scartato come dice Papa Francesco la persona in in categorie marginali a disagio non è una retta eh ma è una 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 persona su cui investire eh e a cui ridare occasioni di dignità e quindi l'idea dei budget personalizzati il budget di salute il budget educativo eh percorsi personalizzati che favoriscono il reinserimento di queste persone nella società col budget di salute per esempio il disabile psichico che viene reinserito nel mondo dell'agricoltura sostenibile il budget educativo che aiuta il reinserimento eh della eh delle persone che sono in drop out diciamo dalla scuola quindi l' abbandono contrasta l'abbandono scolastico eh l'idea eh che ci balena in testa in questo momento è di creare un bond sociale proprio come abbiamo creato un bond verde dove eh raccogliere fondi sempre sui mercati internazionali per finanziare tutte queste idee che sanno mettere assieme valore economico eh e eh e valore sociale ambientale quindi ecco diciamo che il il percorso un pochino della diciamo di di quest'anno ecco abbiamo per per sintetizzare abbiamo eh tante cose negative che sono accadute e lo sappiamo sul fronte della povertà sappiamo che i settori più colpiti sono stati quelli dove il consumo avveniva con assembramento quindi il settore del turismo degli spettacoli dal vivo la ristorazione sappiamo che ci sono tante ferite da curare ma sappiamo anche che nei momenti difficili come ci raccontavano i nonni ai tempi della guerra sono anche momenti di grande possono essere momenti di grande rinascita morale e e momenti in cui abbiamo imparato ad apprezzare le cose che contano stiamo rivalutando quanto è preziosa la vita eh quanto è importante fare comunità e stiamo ritrovando delle ragioni di senso forte che spiegano poi quei dati a a normali diciamo strani sulla soddisfazione di vita che tra l'altro trovate confermati nel rapporto mondiale sulla felicità che è uscito proprio oggi se vi scaricate il rapporto trovate uno studio eh con i dati Gallup che ci fanno vedere che praticamente in tutti i paesi del mondo è successa un po' la stessa cosa che vi ho raccontato per l'Italia quindi per il futuro cosa c'è se mettiamo assieme questa visione questa visione forte un pensiero forte fondato sulla generatività sul valore della cura della relazione su questo pensiero forte possiamo innestare veramente un cambiamento aggregando le persone generative creando reti eh puntando su una serie di partite indicatori di generatività eh i percorsi dal basso di di economia civile e eh lavorando anche con la politica con la P maiuscola per cercare di portare queste idee e per far andare assieme avanti le tre mani della cittadinanza attiva delle imprese responsabili e della eh delle decisioni delle istituzioni lungimiranti ed illuminate che diventano levatrici delle energie della società civile ecco questo è un pochino diciamo il il percorso il quadro che io avevo pensato di raccontarvi e ovviamente ho dovuto fare una una carrellata terribile faccio sempre il centometrista eh chiaramente tutto questo ha bisogno di tutti noi e quindi eh rinnovo anche l'invito a a a scendere in campo anche nel mondo della comunicazione è molto importante la rete i social abbiamo vissuto la la stagione eh del della fabbrica di odio una fortuna siamo riusciti a superare anche combattendo pensate a facciamo rete al lavoro che abbiamo fatto contro il linguaggio d'odio oggi siamo in una fase un po' diversa è una fase ripeto un po' di passività una fase dei tifosi delle bandierine di stanca dove eh ci mettiamo dietro appunto la scelta di un uomo della provvidenza o di un altro ecco anche questa fase purtroppo non è creativa come dovrebbe essere tutti insieme dobbiamo di una terza fase quindi usare gli strumenti della comunicazione di social per vincere questa pigrizia quest'ignavia e invece far capire a tutti che ci sono spazi di azione di protagonismo importanti che veramente possono rendere la nostra vita soddisfacente e ricca di senso ecco un po' questo era quello che vi volevo dire oggi stasera grazie grazie Leonardo di questo intervento così appassionato così stimolante sono contenta di sapere anche da colleghe insegnanti che sono presenti degli studenti questa sera ad ascoltarti perché tu hai sempre avuto lo lo posso testimoniare anche di persona questo ruolo importante questa capacità di stimolare i giovani di spingerli a prendere in mano il loro presente ma per essere attori del futuro e per imparare anche proprio appunto da un mal di pancia da un disagio ad essere protagonisti del del loro futuro io ricordo quando tu mi hai aiutata nella periferia di Roma a motivare un ragazzo che aveva perso il padre che che era si era suicidato per debiti di gioco l'abbiamo portato insieme a fare lo slot mob a a fare quella manifestazione che abbiamo promosso ed è avuto un grandissimo successo di andare a premiare con un consumo di massa di colazione piuttosto che aperitivo a seconda del momento della giornata nel bar deslottizzato per testimoniare che un gioco sano è migliore per la salute e per la società allora io ti ringrazio proprio di questo ruolo che hai nella nello stimolare questi processi e e di essere testimone proprio per i giovani che un un mondo diverso è possibile c'era una domanda che arrivava dalla dalla chat che ti chiedeva di approfondire anche perché non si è capito bene perché è saltata la comunicazione quando parlavi di di quelli utilizzi di combustibili e di come ridurre la co2 assolutamente e beh diciamo che la co2 eh dipende da tre quattro cose fondamentali l'industria il modo in cui facciamo industria l'agricoltura i trasporti e e il e l'edifici di riscaldamento degli edifici allora noi dobbiamo lavorare su queste quattro cose sugli edifici dobbiamo eh beh la strada del centodieci per cento è la strada giusta cioè dobbiamo ridurre eh si misura in questo modo diciamo grammi di co2 per per il metro quadro cioè dobbiamo ridurre le emissioni come con l'isolamento dei muri con la coibentazione quindi con l'isolamento dei tetti con le caldaie che non generano polveri sottili e quindi con il salto di classe energetica dei nostri edifici sappiamo che gli edifici vanno da quattro fino a g e con il doppio salto di classe energetica adesso è possibile avere questo incentivo del centodieci per cento per quanto riguarda l'industria il problema fondamentale eh è la produzione di acciaio di 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 cemento e quindi la favorire tutti quegli investimenti delle imprese che eh producono con minore consumo di energia oggi si parla di eh di eh cogenerazione di trigenerazione che sono dei macchinari che usano fondamentalmente il calore e quindi meno emissioni per 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 la produzione industriale poi c'è eh dimenticavo il tema della produzione di energia quindi andare rapidamente verso le rinnovabili ma anche qui ci deve aiutare l'innovazione tecnologica perché abbiamo bisogno di di batterie perché purtroppo il sole il vento non sono costanti quindi la produzione di energia elettrica non è costante abbiamo bisogno di batterie che accumulino l'energia che abbiamo prodotto e ce la ridiano quando magari eh non c'è sole buio quando non c'è vento quindi eh qui c'è un tema importante anche di innovazione eh l'agricoltura sull' agricoltura ci sono tante cose importanti da fare noi sappiamo che purtroppo quasi credo l'otto il dieci per cento dell'effetto serra deriva da eh scarti animali da emissioni animali per così dire e oggi c'è tutta una tecnologia importante che trasforma questi scarti in biometano in biocarburante eh e questa è una l'Italia è anche eccellente questo ha delle punte di innovazioni molto importanti quindi investire in questo è uno dei delle degli elementi di punta sul trasporto dobbiamo arrivare a un trasporto dove nelle grandi città fondamentalmente ci si muove con l'elettrico eh quindi con un'infrastruttura però che funziona di ricarica eccetera o con i mezzi pubblici o con la mobilità dolce diciamo eh mentre eh poi per eh grandi trasporti a distanza quindi il tema delle navi degli aerei dei treni lì c'è molta strada da fare ma per esempio nel bond verde di cui vi parlavo noi abbiamo previsto tutta una serie di investimenti per rendere più verdi i porti per esempio e lì ci sono la cosa fondamentale l'ultimo miglio quindi il collegamento ferroviario tra il porto e poi diciamo le linee di trasporto e non automobilistico e anche quello che si chiama cold ironing cioè eh diciamo eh si consuma tantissima energia eh tenendo la la barca in in funzionamento quando sono attraccate ai porti fare tutto questo con le rinnovabili e non con diciamo il gasolio eh diventerebbe diciamo fondamentale ecco quindi ci sono tantissime sfide aperte e ovviamente la il ruolo dei cittadini è fondamentale con quello che noi consumiamo eh gli scarti non produrre troppi scarti quindi tutto il tema degli scarti sono pure lì l'otto per cento delle emissioni e il tema della dei rifiuti quindi eh aumentare la quota di rifiuti riusati e riciclati e ridurre quello che va indifferenziata indiscarica ecco insomma sono tantissime cose ecco io eh invito tutti i giovani a ad appassionarsi a questi temi e ad approfondire questi temi perché i lavori nel futuro non stanno diminuendo stanno aumentando ma stanno diventando in gran parte green jobs quindi un giurista un contabile un economista del futuro deve avere conoscenze ambientali di scienze naturali eh se vuole veramente e e avrà un futuro importante io stesso che ero un economista quando ho iniziato non sapevo nulla di queste cose le ho studiate ho cercato di impararle ecco quindi questa è un po' la sfida grazie grazie di questa domanda così risposta così esaustiva eh qualcuno diceva eh nella chat ma sarà che questo aumento di felicità è dovuto a questa riscoperta della natura al fatto che il pianeta ha respirato perché noi l'abbiamo anche eh diciamo stressato di meno però nello stesso tempo veniva anche la domanda sicuramente questo è un anno in cui il nostro asset relazionale è stato molto penalizzato e molto mortificato noi abbiamo bisogno di vedere gli altri di abbracciarli di poter stare una sera insieme seduti al ristorante allora e in questi in questo misurazione del BES è sufficientemente rappresentato l'asset relazionale o si potrebbe fare di più sono due domande. Sì beh assolutamente allora purtroppo la qualità ambientale incide ma non tantissimo sulla soddisfazione di vita delle persone sul rapporto di azione sull'afficità dicono soprattutto per esempio la bassa qualità dell'aria quella incide negativamente e si può capire pensiamo anche a chi vive a Pechino eccetera eh mentre il discorso delle relazioni è assolutamente centrale nella soddisfazione di vita delle persone qui è successa una cosa particolare perché da una parte la scoperta del lavoro a distanza ci ha reso più ricchi di tempo perché abbiamo perso molto meno tempo negli spostamenti soggettive io vivevo negli aeroporti nei treni nelle stazioni e oggi posso fare quello che sto facendo con voi e stare contemporaneamente a casa con i miei cari quindi per me la vita di relazioni è paradossalmente quasi migliorata è chiaro che per un giovane che vive la sua adolescenza che vive gli anni fondamentali della vita scolastica della vita di relazione fuori da casa è stato un anno terribile bisogna quindi capire quelli che sono io credo che però il domani fuori dalla pandemia potremmo avere il meglio dei due mondi cioè potremmo combinare vita in presenza e vita a distanza nel modo migliore possibile il lavoro non sarà più cinque giorni a settimana che prendiamo la macchina e andiamo ci muoviamo e siamo per ore in macchina avremo probabilmente due tre giorni a distanza e due tre giorni in presenza non necessariamente il lavoro a distanza sarà a casa stanno nascendo gli hub di quartiere un'altra grande sfida questa quindi non necessariamente chi ha case piccole chi ha problemi dovrà fare il lavoro a distanza in casa ecco cioè dovremmo cercare di mettere il meglio dei due mondi di tenere il meglio dei dei due mondi possiamo farlo perché la pandemia ci ha insegnato molto di quello che si può fare a distanza per fortuna non saremo costretti a stare a casa come oggi e quindi meglio dell'uno e dell'altro sistema. Allora ci sono ancora due domande molto tecniche diciamo dell'interesse per il discorso del utilizzo di idrogeno verde potrà avere un futuro e anche perché non è più possibile usare il vetro a rendere? L'idrogeno è molto importante e però proprio gli investitori internazionali ci hanno detto mi raccomando solo idrogeno verde non idrogeno blu. L'idrogeno verde è quello che è prodotto senza fonti fossili quindi è prodotto attraverso i cosiddetti elettrolizzatori cioè praticamente la separazione dell'idrogeno dell'ossigeno dall'acqua e perché l'idrogeno è importante perché l'idrogeno può aiutare a costruire le diciamo a a favorire l'accumulo dell'energia rinnovabile può forse servire nel nel trasporto però nei grandi trasporti quindi navi e treni ma sicuramente nel campo delle automobili ormai l'elettrico ha vinto ed è di gran lunga la tecnologia più conveniente quindi bisogna l'idrogeno è importante ma bisogna stare attenti ad utilizzarlo laddove laddove è più e più importante sul sul vetro il vetro è il protagonista del futuro perché il vetro è uno dei pochi materiali che è infinitamente riciclabile il vetro si può riciclare sempre e quindi dobbiamo andare verso un mondo che sia plastic free e un mondo fatto di vetro e infatti diciamo i produttori di vetro sono esultano diciamo in questa fase stanno aumentando moltissimo quindi senz'altro questo vuol dire che dobbiamo avere dei sistemi di vuoto a rendere che vanno un attimo ricostruiti non è facile ci sono una serie di problemi nel giro del vuoto a rendere e senz'altro c'è anche chi non lo ama tanto il vuoto a rendere perché chiaramente vuol dire che invece di produrre dieci bottiglie ne produco due e quelle bottiglie le riciclo però assolutamente è un sistema che può funzionare come funzionava ai tempi dei nostri genitori ci sono dei sistemi già in altri paesi di macchinette dove tu puoi riportare le bottiglie e riavendo indietro anche dei dei soldi un po' come si faceva ripeto col vuoto a rendere prima allora qui c'è avevamo sapevamo della presenza di di studenti e di insegnanti allora c'è una domanda interessante alla luce di quanto detto del mondo del lavoro cosa consigliare a studenti che stanno concludendo il percorso della scuola secondaria in che settori inserirsi quali percorsi università di scegliere allora io do un consiglio trasversale perché non posso conoscere i gusti di chi è appassionato di ingegneria e chi di lettere però delle dei consigli importanti bisogna armarsi io dico bisogna avere un orizzonte e una piccozza l'orizzonte è fondamentale non perdere ideali sogni passioni la piccozza ci serve per farci strada nessuno ci stende un tappeto rosso nella vita c'è da fare una gavetta dura e quindi ogni giorno bisogna scavarsi la via verso quell'orizzonte l'altra cosa importante che consiglierei a tutti i ragazzi alla scuola a tutti i professori lavorate molto sui vostri desideri tutto inizia come dicevamo appunto nella generatività di eric erickson tutto inizia dal desiderio se voi avete dei desideri poi avete quello che vi motiva motiva lo sforzo e la fatica dell'apprendimento e quindi la capacità di risalire un po la scala del talento desiderare aiuta poi a far nascere eccetera eccetera quindi la generatività e quindi io mi preoccuperei se fossi un giovane se non ho un desiderio oggi dobbiamo lavorare svilupparli a essere anche realistici capire che magari c'è un sogno che non possiamo realizzare ma magari il cosiddetto secondo sogno quello lo possiamo realizzare però assolutamente lavorare sulle proprie passioni coltivarle e questo poi alla fine ci può portare ci può portare lontano ecco c'è una domanda che arriva niente meno che dalla Tunisia da Maria Teresa che si trova lì per lavoro dice innovazione e futuro come possono andare di pari passo senza correre il rischio di dare tutto per scontato come sovente succede il fatto di accettare gli stereotipi così come tali senza mettersi in gioco io dico questo che la no diciamo innovare vuol dire il contrario di accettare gli stereotipi innovare vuol dire oggi abbiamo iniziato la formazione del terzo settore io dicevo le cose belle della vita sono le relazioni fare squadra imparare innovare queste sono le cose belle della vita anche perché l'innovazione è fondamentale avere anche una grande sensibilità un animo buono si rischia di finire poi in una specie di circolo vizioso anche di sfiducia di diffidenza perché vediamo che che quello che facciamo non cambia dobbiamo mettere assieme la voglia di imparare di apprendere di innovare con la nostra sensibilità la nostra sensibilità appunto e la voglia di fare di cambiare il mondo di fare delle cose buone per gli altri e per noi stessi secondo me questo binomio è fondamentale e quindi se abbiamo questo binomio sicuramente non ci accontentiamo degli stereotipi cioè vogliamo cambiare le cose vogliamo mettere in moto dei percorsi di cambiamento ricordando sempre quella che è secondo me la frase più bella di papa francesco il tempo è superiore allo spazio quello deve essere il nostro grande motto cioè non tanto occupare spazi tanto per occuparli ma mettere in moto dei processi che cambiano lentamente le cose nel tempo bisogna avere la lungimiranza del seminario quando uno getta un seme non vede già l'albero ha gettato un seme però sa che coltivando quella pianta poi dopo crescerà qualcosa di importante quindi dobbiamo avere questa lungimiranza grazie unisco le ultime due due domande c'era qualcuno che diceva questa misto di lavoro in presenza e a distanza tu pensi che sia qualche cosa che potrebbe succedere anche per la scuola e poi di darci ancora qualche input su come migliorare la nostra partecipazione la scuola no perché la scuola è l'unico l'unica cosa che va fatta in presenza nel senso che i ragazzi già l'università è diverso l'università può combinare un po' di presenza e di distanza ma i ragazzi nell'adolescenza hanno bisogno veramente di stare assieme e di stare con gli insegnanti quindi purtroppo per loro è stato un grandissimo sacrificio e per quanto riguarda le forme di partecipazione ripeto magari continuando a seguirci sono un po' quelle che vi ho raccontato oggi sono infinite dalle scelte di consumo quindi il voto col portafoglio che oggi potete farlo anche dal vostro cellulare conoscendo con tutte queste storie con i siti dell'online sostenibile alle scelte di risparmio che vuol dire sostenere con i vostri risparmi le banche etiche i fondi etici il microcredito alle occasioni di crowdfunding all'impegno diciamo appunto nei percorsi di innovazione eh all'impegno nella comunicazione quello che vi dicevo prima questa grande missione di eh di migliorare anche il mondo della comunicazione quindi diciamo che ogni gesto della nostra vita può essere eh può acquisire un valore speciale pensavo appunto l'altro giorno a questa grandissima nostra innovatrice di Bergoglio no? E allora dicevo a mia moglie Laura dice vedi pure quando puliamo casa possiamo diciamo che è una delle 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 cose meno prosaiche diciamo meno poetiche più prosaiche della vita possiamo farlo con un prodotto che eh appunto è un prodotto di frontiera dell'economia circolare che fa reinserimento lavoro cioè tutto può avere veramente veramente un grande significato e quindi l'azione politica ne abbiamo parlato no a a livello amministrativo a livello nazionale quindi l'importante ecco io credo che questo cioè avere quella capacità di introspezione di studio di approfondimento che ci ogni cosa che facciamo possiamo veramente fare qualcosa di bello grazie grazie Leonardo veramente è stato una un fiume questa tua ecco guarda c'è ancora abbiamo ancora cinque minuti allora non lasciamo nessuna domanda non risposta perché sempre si può completare anche perché qualcuno pone il problema che spesso emerge no dice sicuramente l'elettrico per il trasporto privato è la cosa migliore però le batterie finite dove si mettono inquinano certo e se lì si sta facendo un grande lavoro allora innanzitutto la l'energia elettrica deve essere prodotta da fonti rinnovabili perché se l'energia elettrica è prodotta da fonti fossili diciamo anche se usiamo lato elettrica il problema si pone lo stesso poi c'è il problema delle batterie chiaramente oggi come importante il petrolio in passato sono importanti i minerali rari quelli importanti per le batterie il litio il cobalto però già oggi c'è una innovazione tecnologica che sta costruendo delle batterie che possono sostituire questi materiali cioè l'innovazione ci deve sempre aiutare a superare i colli di bottiglia non dipendere da un solo materiale che poi questo materiale attira come sappiamo appetiti predatori e tante altre cose per far questo ripeto io credo già oggi per esempio ci sono dei sistemi di batteria che vanno oltre questi materiali e quindi io sono molto fiducioso che l'innovazione ci aiuterà continuamente vengono inventate batterie che hanno un tasso di riciclo maggiore e quindi oggi tutti gli sforzi dell'umanità sono in questa direzione dicevo è un po' come la esattamente la l'immagine della battaglia del vaccino la stessa cosa ad oggi noi non ce l'abbiamo il vaccino contro il riscaldamento globale ci mancano dei pezzi però il fatto che tutta l'umanità stia lavorando per questo eh ci rende abbastanza ottimisti quella curva che vi ho fatto vedere si sposta sempre verso destra noi stiamo lavorando adesso anche a preparare il G20 dove dove eh stiamo cercando di fare delle cose anche a livello globale è nata l'alleanza per l'economia circolare stanno raccogliendo molti fondi io credo che diciamo io sono ottimista perché vedo proprio come un anno fa diciamo con i vaccini che gli sforzi si stanno concentrando e quindi eh spero che nel giro di poco avremo delle cose che oggi anche non immaginiamo e che ci aiuteranno a a completare il quadro. Grazie, grazie Leonardo. Allora invitiamo tutti anche ad andare a visitare questi siti che tu ci hai citato di questo paniere di prodotti del del mercato del del riciclo oppure del dei beni confiscati questo scritto giusto giusto ma con due o e poi I on by scritto come per la selezione delle imprese next e ovviamente scuola di economia civile per i contenuti culturali e formativi che 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 poi da cui scaturiscono tutte queste cose che vi stiamo raccontando. Ecco mi mi sembra che questa serata si è proprio eh posta in un in un kairos diremmo in un momento opportuno perché ieri era la giornata mondiale sul riciclo e voi l'avete celebrata anche con questo bellissimo evento di cui abbiamo parlato prima. Oggi oltre a essere la festa di San Giuseppe quindi gli auguri più belli a tutti quelli che portano questo nome e anche a tutti i papà presenti ma è anche una giornata che ci deve far riflettere perché è l'anniversario del dell'assassinio di Don Beppe Diana. Don Beppe Diana che ieri abbiamo visto, sentito, citato in una di queste iniziative che adesso ecco che si chiama Terra Felix andate a cercarla sul eh sul sito giusto perché eh proprio lì ehm dal nel paese dove è stato ehm assassinato Don Beppe Diana nella Terra dei Fuochi è nata un'azione di ehm rivalutazione di un terreno confiscato e la produzione di tutti i prodotti agricoli che sono in vendita e che quindi se posso aggiungere una parola su questo per esempio penso alle lenticchie di Libera Terra penso alle marmellate di Goel Bio i prodotti sono una parte molto molto importante del di giosto e quindi di questa cosa che tu dicevi per aiutare perché la la criminalità si combatte creando pezzi di economia sana e quindi contrastando anche competendo no con quello che offre e questo noi dobbiamo aiutare chi lo fa e lo possiamo aiutare a partire dalla nostra prima colazione ecco diciamo così. Grazie e allora ci lasciamo invece facendo ponte verso la la giornata di domani che eh manco a farlo apposta è la giornata mondiale della felicità quindi vi ecco ci auguriamo proprio di spenderla anche eh rinnovando il pensiero a tutte queste cose così eh accattivanti e così stimolanti che abbiamo ascoltato questa sera e ringraziamo ancora tantissimo Leonardo per averci dedicato il suo tempo. Grazie. Grazie a voi. Grazie grazie di cuore professore ma anche Beatrice ecco anche da parte nostra qui al polo è sempre eh un immenso piacere ecco ci ha ci ha ricordato no rafforzando proprio si è sentito parlare oltre che di felicità e di insomma eh benessere soprattutto di cioè di di queste tre mani io direi anche quattro mani no perché da questa serata è emerso come appunto oltre allo Stato la parte istituzionale le imprese responsabili la cittadinanza attiva a cui ci chiama anche proprio il mercato come ecosistema gioca il suo ruolo quindi ci sentiamo tutti più eh consumatori no responsabili quindi davvero è stato un bel messaggio polivalente ecco io nel salutare tutti mi limito soltanto a ricordare il prossimo appuntamento con i quaresimali che sarà la serata conclusiva avremo con noi il professor Stefano Zamanni altro eh altra luce insomma nel panorama nazionale e internazionale e il tema che si affronterà sarà quello delle disuguaglianze si rifletterà appunto sul perché sono diventate strutturali e che cosa fare secondo la prospettiva e l'ottica dell'economia civile quindi questo nuovo sguardo che fa del mercato appunto qualcosa di relazionale ancora prima che transazione economica o insomma finanziaria ecco ci ci diamo l'appuntamento quindi al venerdì prossimo il 26 marzo sempre con fascia oraria 20 e 45 21 e 45 per un'ultima ora di riflessioni molto profonde grazie ancora a tutti e buona serata grazie